buongiorno a tutti bentornati sul mio canale questa mattina arriva una notizia ufficiale molto molto importante legata al calciomercato in entrata del nostro lecce prima di parlarne però come sempre vi chiedo di lasciare un bel mi piace e iscrivetevi al canale vi ringrazio per il 1490 manca poco ai 1500 allora appunto questa mattina è arrivata la notizia ufficiale Federico Di Francesco sarà un nuovo giocatore del lecce sono davvero molto contento per questo acquisto giocatore 28enne attaccante può ricoprire tre ruoli offensivi quindi anche utile chiaramente il suo ruolo principale è l'ala sinistra ma può fare anche l'ala destra e la seconda punta figlio dell'allenatore Eusebio Di Francesco per chi non lo conoscesse un allenatore che anche allenato il lecce in serie a anche se la sua avventura non fu molto fortunata anzi fu abbastanza terribile ma ovviamente non focalizziamoci su questo è un giocatore che ha tanta esperienza nel massimo campionato italiano infatti analizzando totalmente la sua carriera ha disputato ben 120 presenze segnando 14 gol e fornendo 11 assist nel calciatore appunto che mastica bene il massimo campionato italiano arriva a titolo definitivo dalla spalla quindi niente prestiti con diritto contro il riscatto niente arriva a titolo definitivo firmerà un contratto triennale ci sono ovviamente anche dei bonus legati al raggiungimento della salvezza di quest'anno fatemi chiaramente sapere con un commento cosa ne pensate e quindi fatemi sapere la vostra a questo punto io credo che con l'arrivo di federico di francesco non solo credo che l'attacco sia al completo perché avremmo di francesco strefezza e poi come prime punte uno tra sisè e colombo ma credo appunto che di mariano si lega appunto un'altra squadra si era parlato dell'avvicinamento del parma della regina anche altre squadre e guarda caso stasera c'è un amichevole importante con il parma e quindi questo potrebbe scatenare potrebbe essere la miccia decisiva per sbloccare la trattativa tra di mariano e il parma chiaramente ne sapremo nelle prossime ore sono davvero molto contento per per questo acquisto ora servono ovviamente secondo me dei difensori centrali al centrocampo siamo bene abbiamo 47 centrocampisti appunto mancherebbero due difensori centrali e poi siamo al completo per poter lottare per la serie a ragazzi ci sentiamo in un prossimo video forza lecce sempre e ciao a tutti